Parliamo di salute, sono 11 i ragazzi che dall'inizio dell'anno hanno avuto un trapianto di reni alla clinica De Marchi del Policlinico di Milano. Per la loro assistenza lavorano quotidianamente medici, infermieri e volontari e poi è arrivata recentemente un'importante donazione che aiuterà la ricerca. Maura Tani. Che cosa soffre vostro figlio? Di un'insufficienza renale, una nefrottisi, l'ha riscontrata nel 2014, prima di quel momento non aveva nulla. Quindi era già grandicello? Sì, sì, era già grandicello. In quel momento scatta un po' la paura, la preoccupazione per i genitori? E paura, panico, scatta tutto, ti crolla il mondo addosso perché comunque cambia un po' la vita. Una grave malattia ai reni, la diagnosi crudele, che arriva a un ragazzo di 15 anni, una famiglia sconvolta. Sono 150 in Italia i minori colpiti da nefropatie così gravi da dover affrontare la dura routine della dialisi. Due e tre volte alla settimana attaccati per ore alle macchine fino al trapianto, che fa ritornare a una giovinezza rimasta come sospesa tra speranze e trepidazione. Ad assistere pazienti e genitori gli specialisti dei reparti di nefrologia pediatrica. Cinque in Italia i centri autorizzati ai trapianti. In Lombardia la clinica De Marchi del Policlinico. Adesso è in cura? Sì, è in cura. Siete in attesa di un trapianto? Sì, quasi un anno, siamo in lista. Fa l'idallisi due volte alla settimana, tutto qua. Vostro figlio ha desiderio di questo intervento? Sì, sì, non trova l'ora, così dice almeno comincio a fare una vita normale. Sono malattie in genere congenite oppure ereditarie e alcune di queste malattie sono già presenti nella diagnosi prenatale che viene fatta grazie all'ecografia. I bambini non funzionano? Alcune volte funzionano poco, altre volte non funzionano. Il problema è che quando funzionano poco purtroppo nel tempo tendono a funzionare sempre meno e quindi a un certo punto c'è bisogno di fare la dialisi a questi bambini oppure il trapianto di rene. Quest'anno abbiamo già fatto 11 trapianti pediatrici qui a Milano, l'anno scorso ne abbiamo fatti 20 e di questi 20 5 erano da viventi, 4 donatori genitori e una volta una sorella maggiorenne molto grande che ha voluto donare il rene alla sorella più piccola. L'attesa media è di un anno ma a volte dura molto di più e così il reparto diventa una seconda famiglia. I volontari una mano amica come quella attesa dall'associazione del bambino nefropatico da decenni prezioso alleato dell'intera De Marchi. C'è anche un impegno umano nei confronti di queste famiglie? Assolutamente sì, ci occupiamo dei viaggi delle famiglie che afferiscono in clinica per le visite, abbiamo un appartamento incomodato d'uso dove alloggiamo le famiglie che vengono da fuori Milano e ci occupiamo delle vacanze dei bambini. Sono 32 anni che mi occupo di questa associazione per cui ne ho viste passare tantissime, ho visto anche dei bambini che erano bambini, che hanno avuto il trapianto e che adesso sono papà e che vengono a farci visita, che si sono sposati, laureati, lavorano, quindi è una grande gioia. Si guarda con fiducia i progressi della ricerca, costanti e anche selenti e ogni risorsa in più che aiuta a migliorare la rete di assistenza, la diagnosi e le cure è preziosa. Qui in De Marchi, poche settimane fa, è arrivato un regalo inaspettato e sostanzioso, un assegno da 500 mila euro con una firma prestigiosa. C'è arrivato dalla famiglia Bonelli, in memoria di Sergio Bonelli, creatore di Tex, che abbiamo letto tutti da bambini, ed è un dono straordinario perché questo ci permette di implementare questa diagnostica prenatale e la precocità nella terapia che speriamo porti ad una riduzione del danno renale, e quindi a una riduzione di necessità di dialisi e trapianto in questi bambini.